...un canto napoletano che ci ricorda una retata di uno sciopero fatto dai panettieri nel 1500 ora non vi sto a raccontare tutta la storia, fatto sta che è stato uno sciopero così importante in cui la popolazione si è ribellata contro i panettieri che avevano alzato il costo delle panelle e i panettieri a loro volta chiusero tutti quanti i forni, lì ci fu un grosso sciopero lo chiamerei dopodiché il pane abbassò il suo prezzo